Lavoriamo e lavoro molto su questo concetto di architettura osmotica, legata all'ambiente, quindi è l'ambiente che in un certo senso disegna l'architettura, quindi c'è questo scambio. Un altro elemento su cui lavoro intensamente è l'integrazione dell'impiantistica, quindi della tecnologia impiantistica all'aspetto architetturale. In questo progetto abbiamo realizzato dei people mover nelle stazioni di questo shuttle che va dalla stazione di Bologna all'aeroporto della città, dove abbiamo creato una grande malavustra che è in grado di generare il 40% di energia di tutto il sistema. È un linguaggio che si deve rifare, si rifà gli aspetti naturali e che deve passare oggi non solamente dagli elementi costituenti che sono importanti, ma proprio a questa idea di ben fatto, di ben realizzato, che alla fine assume un linguaggio, quindi una qualità estetico-visiva e poi caratteri della nostra architettura e intesa con più senso disegna.